Quarto giorno di ritiro oggi da Temu, purtroppo incontriamo giornata particolarmente uggiosa ma non ci fermiamo, siamo qui con Simona Zani. Simone è cominciato il ritiro, come stai trovando le ragazze, sono in buona condizione, si sono presentate in buona condizione? Sì, stanno tutte bene, abbiamo fatto la settimana scorsa a Brescia che è andata bene, questa settimana sicuramente ho le gambe pesanti, fisicamente sicuramente un po' più stanche però tutto molto bene, nessun problema particolare. Le ragazze le avete trovate disponibili, anche le nuove che sono appena arrivate? Sì, sì, anzi si sono aggregate molto bene al gruppo fin da subito, vedo che hanno legato quindi io direi molto bene, molto bene anche le nuove sicuramente. Il programma cosa prevede? Ancora carichi? Ma sì, sicuramente in ritiro qualcosa di carico si deve fare per forza, nel senso che bisogna continuare un po' con la preparazione però finiremo questa settimana con le cose un po' più pesanti, poi sicuramente molto meno, visto che abbiamo avuto anche una settimana in più quest'anno siamo riusciti a fare le cose bene, insomma, con calma, senza caricare troppo fin da subito, insomma. Oggi è una giornata speciale, il tuo compleanno, tanti auguri! Grazie, sì, avrei preferito non compierli più però va bene, grazie! Grazie a te Simone! Ciao, grazie!